inizia quest'annata 2017 con l'armata armata del sud tutto bene siamo appena entrato in un bosco del nord Italia centro Italia Molise ecco il primo ritrovamento eccolo qua grande gioco mettila un po' sopra eccolo qua vedete ecco bravo questa qua la voglio dedicare a un nostro amico che non è potuto venire la dedichiamo a Mustafà va bene questa qua facciamo le patate Diego prima ho fatto una foto ma perchè hai fatto questa foto? perchè abbiamo trovato una scura nera ha trovato Diego il mio amico Diego auguri Diego buon che compleanno è il rossa del suo capo 11 marzo 2017 tanti auguri al grande Diego che compleanno facciamo le patate oh penso siamo ancora in inverno eh ragazzi però voglio fare una cosa siccome che c'ho una dedica da fare la voglio dedicare a due miei amici a Forse Candela e Giovanni Salvani sono due amici nooo sono due amici vedi qua Nuzio vedi questo è un'andare troppo bella Nuzio guarda qua Nuzio guarda guarda che ci sta qua sotto che spettacolo sta pure la sorella vedi voglio fare una dedica Nuzio alza un po' alla signora Nuzio Diego nooo nooo vabbè fuggiare da pure una volta vincenza mia Nuzio è Diego ciao Vincenzo buongiorno a voi buongiorno buongiorno questo la dedico a te Vincenzo la dedichiamo a te dove c'è questa norchella Vincenzo stiamo facendo un video non dire burcaria i juventini vincenzo i juventini napoletani si devono cancellare Vincenzo Vincenzo ti stiamo facendo un video non dire puttanate con la bocca cosi no sarai pubblicato la roba ti prendi tutte le responsabilità no no Vincenzo Vincenzo un abbraccio a tutti e tre ciao guardate che morchella ragazzi che foto non ci vuoi aspettare un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio vincenzo 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 mamma mia mamma mia che fungo ragazzi avete scammazzato qualcuno? non ti preoccupare che fungo sosta 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 alza la guarda mi faccio un gollo di segno una giornata in Molise con i miei amici Diego e Jonathan la pulizia dei boschi settimana prossima ragazzi a marsule sicuramente guarda la vedi quelle due la quattro sono state poi c'è fatica vedi un altro qua vicino al bastone nel paniere dice il diavolo si guarda quando stai a casa vero o no? eh questa è una panna morchelluna eh morchelluna morchelluna no no Diego il provamento del diavolo dai spi vado a casa che sta qua con me Diego togli le mani Diego non devi fare mettoci le due Diego oh tre stai un sottafo sono sottafo dittene il mio piccino è sottafo non l'ho non l'ho guarda è questa stessa che cosa c'è a me che si è cofri va giù ma la pigli e che si è cofri belli due muschi bianchi capito guarda qua nelle muschi bianche proprio tipico del Molise capito Sì. Oh, a che ci sta a andare? Oh, lo so, lo so, lo so. Oh, lo so, lo so, lo so. Questo è questo, il piccolo. E questo. E questo. Vedi. Che ne pensi? Che ne pensi? Che ci puoi fare? Che odore! Che profumale, eh? Profumatissimo. Guardate che bellezza. Cominciamo a tirare questo, guarda, guarda. YouTube. Oh, che spettacolo, ragazzi. Grande, Jonathan. Le due qua le dedico al nostro presidente Fabio Buro, guarda, Fabio. Fabio, dal Molise con amore. Guarda, Fabio. Allora, che puoi fare? Questa qua la voglio dedicare a un mio amico. Giovanni Olucianile, si chiama. E lo hai già dedicato a questo. Eccola qua. Quelle due morchelle. Due morchelle. E uno qua e l'altro qua. Ciao, ma questi sono per te. Ciao Giovanni. Allora, faccio una cosa, Diego. L'anno scorso ci ho trovato un porcino di righile. Guarda qua. Guarda qua. guarda qua. Guarda qua. San Martino Campanaro. stai sotto la capa qui. Stai sotto la capa qui. 11 marzo 2017. Tamponi al mio amico Diego. Compleanno di Diego. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Auguri Diego. Grazie. Grande Diego auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. inizio a te. Lleva a, 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 o... Arzo. Arzo. S subscribe. Arzo. Lleva a live. Lleva a live. Lleva a live. –Mama – Baccio. Grazie.